Prova video in Ultra HD da LG G5, in questo momento sto camminando in modo da capire la stabilizzazione di questo dispositivo Siamo nella visuale normale, facciamo giusto un contro luce rapidissimo Come potete vedere viene gestito veramente benissimo, i video mi sembrano ben stabilizzati e la qualità video ottima Proviamo a cambiare il tipo di inquadratura e fare un wide angle al volo Ok, figata, viene gestita automaticamente all'interno del video, avete visto Abbiamo appena ingrandito la nostra visuale, diventa tutto un po' più sferico ma veramente molto bello l'effetto E adesso andiamo a chiudere con la nostra classica macro, anzi prima facciamo il classico zoom E devo dire che anche qua ha un'ottima qualità di zoom oltre che una stabilizzazione fantastica E adesso chiudiamo veramente con la classica macro Grazie a tutti Grazie a tutti